Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui parleremo di AJAX, ovvero della tecnologia che consente di trasferire dei dati direttamente da JavaScript. Cos'è AJAX? AJAX è sostanzialmente l'acronimo di Asynchronous JavaScript and XML ed è una tecnica che permette di caricare dinamicamente dei contenuti all'interno delle pagine web. In particolare consente al codice JavaScript di recuperare dei dati da un server in qualunque momento, quindi anche dopo che, anzi specificamente dopo che la pagina è stata caricata, eventualmente di mandare dei dati in background a un server e di aggiornare le pagine senza doverle ricaricare completamente. Quindi i dati che vengono letti dal server possono essere utilizzati per andare a ripopolare il contenuto di una pagina. Come facciamo a fare il trasferimento utilizzando le tecnologie AJAX? In JavaScript abbiamo a disposizione un oggetto che si chiama XML HTTP Request che viene utilizzato per andare a costruire queste richieste. Quando la risposta dal server arriva, in maniera appunto asincrona, viene eseguita solitamente un'operazione predefinita di callback. Attenzione, sebbene si chiami AJAX, quindi la AX stia per XML, in realtà questo tipo di tecnica funziona tranquillamente con qualunque tipo di dato, quindi non esclusivamente con dati XML. Un altro aspetto è che la richiesta che viene inviata al server potrebbe essere non una semplice richiesta, ma potrebbe contenere essa stessa dei dati che poi vengono inviati di fatto al server, e quindi esserci uno scambio tra queste due entità, quindi il client e il server. Come funziona l'oggetto XML HTTP Request? Allora, devo creare un oggetto di questo tipo con new XML HTTP Request e poi posso andare a creare e preparare una richiesta utilizzando il metodo open, che ha tre parametri, metodo URL e async. Il metodo mi dice il tipo di richiesta HTTP che deve essere fatta, è normalmente ogget o post. L'URL è per l'appunto l'URL a cui fare la richiesta e poi c'è async, che è un valore booleano, che può essere vero o falso, che mi indica se la richiesta deve essere fatta in maniera sincrona oppure asincrona. Una volta che io ho preparato la richiesta, posso usare il metodo send per mandare la richiesta. Eventualmente all'interno di questa richiesta io posso andare a specificare dei dati che verranno inviati al server. Normalmente i dati sono utilizzati quando io faccio una richiesta di tipo post. Come faccio a gestire le richieste? Beh, sostanzialmente lo posso fare tramite dei attributi, delle proprietà dell'oggetto tipo XML HTTP Request che ho creato. In particolare esiste una proprietà che si chiama On Ready State Change che rappresenta una funzione di callback che viene chiamata quando avviene un'evoluzione nella procedura di chiamata e di invio dei dati. La proprietà Ready State contiene lo stato attuale della chiamata, mentre invece Status contiene il codice del protocollo HTTP che viene inviato alla fine, al completamento della richiesta. Infine abbiamo due proprietà che sono Response Text e Response XML che contengono rispettivamente la risposta in formato testo o in formato XML. Ovviamente il formato XML è praticamente il DOM che corrisponde all'oggetto che viene inviato. Quali sono i passi che vengono seguiti nell'andare a fare una richiesta di tipo XML HTTP Request? Sostanzialmente si parte da un primo stato che è disponibile nella proprietà Ready State che è Unsend, quindi io sostanzialmente non ho ancora fatto nulla. Poi ho uno stato 1 in cui ho aperto effettivamente la connessione con il server, ho ricevuto nello stato 2 gli header della risposta, nello stato 3 sto caricando, quindi sto leggendo i dati che mi sono stati inviati dal server, e nello stato 4 ho completato la lettura, quindi la mia risposta in formato testuale, in formato XML, è pronta ad essere letta e processata. Questi 5 valori sono memorizzati come costanti dentro l'oggetto XML HTTP Request. Come faccio a gestire le risposte? Beh, sostanzialmente, prima di poter gestire i dati, devo essere sicuro che tutta la mia richiesta sia terminata, e quindi che il Read Estate sia uguale a XMLHttpRequest.done. Questo vuol dire che la richiesta è completata. A questo punto posso andare a vedere lo status, ovvero lo stato del protocollo HTTP, che normalmente, in caso di successo, è 200. Tuttavia, è bene fare attenzione che quando sto trattando delle connessioni gestite tramite questo oggetto, XMLHttpRequest, è possibile che vengano fatte delle richieste cosiddette condizionali, condizionali, ovvero il codice JavaScript che fa la richiesta manda al server una richiesta condizionale, ovvero dice se la risorsa non è cambiata, semplicemente dimmi che va bene così, oppure se è cambiata, mandami la risorsa completa. E nel caso in cui la risorsa non sia cambiata, sostanzialmente, il server manderà non il codice 200, che normalmente comporta l'invio di tutti i dati, ma bensì 304, ovvero la risorsa che tu hai e per il quale mi hai dato una data di riferimento non è stata più modificata e quindi non ti dico nulla, non ti mando i dati. Questa è una scorciatoia che viene utilizzata all'interno del protocollo HTTP per migliorare l'efficiente di trasferimento, perché se io ho già i dati, io come browser, ho già i dati relativi a una certa risorsa memorizzati e il server mi dice che quella non è più stata modificata, è inutile che vengano trasferiti, quindi molto più veloce e meno traffico generato sulla rete. Per cui, se io voglio andare a verificare che lo stato di risposta sia ok, ovvero che la connessione sia andata a buon fine e quindi che io abbia ricevuto i dati, posso andare a utilizzare una funzione definita in questo modo, quindi ok status è uguale a s, dovrebbe essere lo stato HTTP, 200,304 index of s maggiore o uguale a 0. Quindi, se l'indice della risposta è maggiore o uguale a 0, vuol dire 0 o 1, significa che s è uno di questi due valori. Abbiamo detto che con l'oggetto XML HTTP request noi possiamo fare due tipi di richieste, assincrone oppure sincrone. Quelle più semplici e banali sono quelle sincrone, in cui il terzo parametro del metodo open è messo a false. In questo caso, quando io chiamo il metodo send, JavaScript si ferma, quindi questa è una chiamata cosiddetta bloccante. Si ferma finché la operazione di richiesta non è completata, quindi finché il server non ha ricevuto la risposta e non mi ha risposto completamente, io non ho ricevuto tutto il contenuto della risposta. Per cui, a questo punto, posso andare a verificare che lo stato della mia richiesta sia uno valido, cioè che la richiesta HTTP abbia avuto successo, e a questo punto posso chiamare il metodo che corrisponde all'esecuzione, quindi all'elaborazione dei dati che ho ricevuto. Se andiamo a vedere questo codice, qui c'è anche un try e un catch che vengono utilizzati per andare a intercettare possibili errori che possono essere generati dal metodo send. Ovviamente open non genera nessuna eccezione, perché sostanzialmente open è semplicemente un metodo di preparazione della richiesta. Questo è un esempio di come io posso utilizzare la funzione che abbiamo definito prima per andare a fare una richiesta di tipo sincrono. Vedete che qui ho definito una variabile di S che continua sostanzialmente la prima parte dell'URL a cui andare a recuperare i dati. Vado a prendere un file che si chiama got.txt e quando la richiesta ha successo viene eseguita quella funzione che sostanzialmente stampa got.it e mi mette il testo e poi stampa un completed. Quello che sostanzialmente ottengo è questo tipo di output in cui ho la stampa got.it, due punti, il contenuto del file got.txt che è questo e poi completed. Vedete che la chiamata al metodo loadSync sostanzialmente si blocca perché al suo interno c'è la chiamata al metodo send che non restituisce il controllo finché tutta la procedura non è completata e quindi finché non termina tutto non viene chiamato questo metodo. Se invece voglio fare una richiesta di tipo asincrono quindi una vera e propria richiesta Ajax la soluzione che posso utilizzare è quella che vediamo qua quindi creo comunque un oggetto xml.ht per request vado a preparare la richiesta col metodo open questa volta però il terzo parametro è di tipo true a indicare che effettivamente vogliamo fare una richiesta asincrona dopodiché vado ad impostare la funzione di callback che è un metodo all'interno dell'oggetto xml.http.request uguale a questa funzione questa funzione sostanzialmente che cosa fa? Ogni volta che viene chiamata cioè in corrispondenza di ogni variazione di stato rispetto a quella sequenza di stati che abbiamo visto prima ovvero questa quindi quando passiamo dallo stato unsent a opened poi a had received, poi a loading e poi a done ogni transizione di stato mi comporta una chiamata a quel metodo quindi a quella funzione che io ho appena definito perciò la prima operazione che faccio è andare a vedere se ready state è uguale a xml.htp.request done ovvero se tutta la procedura di richiesta è completata e ho ricevuto tutti i dati dal server a questo punto vado a verificare se lo status dell'oggetto xml.htp.request è positivo quindi o i200 oppure i304 quindi effettivamente i dati sono stati ricevuti oppure ce li ho già in cache per cui mi è stato semplicemente confermato che non sono più cambiati e in questo caso vado a chiamare il metodo success che mi è stato passato come metodo di callback altrimenti se lo stato non è uno dei due stati che mi dicono che la richiesta HTTP è andata a buon fine allora semplicemente stampo un errore request failed e vado a dire che l'url a cui cercavo di fare la richiesta non è andata a buon fine e poi chiamo send quindi vado a dire che questa è la funzione da chiamare ogni transizione dopodiché faccio effettivamente l'invio della richiesta questo scatena tutta l'operazione di collegamento con il server utilizzando il protocollo HTTP permetterà di fare una serie di chiamate a questo metodo e quando finalmente mi ritroverò nello stato finale done allora andrò a chiamare il metodo success nel caso in cui effettivamente la richiesta sia andata a buon fine per cui qui vedete che ad esempio quando io faccio un'operazione di loadersync chiamando il metodo precedente passo questa funzione che sostanzialmente va a creare un elemento pre appende un child di tipo text node in cui mette il testo che viene passato questo è sostanzialmente quanto viene letto dal server quanto il server ci invia viene messo dentro come nodo di testo all'interno di un elemento pre e poi qui viene fatto un document che è elementpyid ajax sample e quindi è sostanzialmente l'oggetto l'elemento che corrisponde a questa slide e andiamo a fare un append child di questo oggetto res e il risultato è sostanzialmente quello che vediamo qui come elemento di tipo pre con dentro il testo che mi è stato inviato dal server quindi in generale quando devo fare un caricamento di contenuto dinamico la procedura che devo seguire è quella di andare ad avere un file con dei contenuti questo può essere un file presente sul server e non modificato oppure un contenuto che viene generato da un application server magari in maniera dinamica leggendo ad esempio da notabase devo avere un punto all'interno della mia pagina html in cui andare a mettere il contenuto e poi devo avere una funzione che sia in grado di generare il contenuto ovvero a partire dai dati che ho ricevuto andare a costruire dell'html che verrà messo in una certa posizione ad esempio partendo dai dati di un oggetto che rappresenta una tabella andare a generare una table html ad esempio posso andare a definire una funzione di questo tipo che ricevendo dei dati che contengono una tabella va a creare un oggetto table corrispondente quindi vedete che questo oggetto sostanzialmente crea un elemento di tipo table inizia andando a mettere al suo interno un tr quindi un table row per ogni elemento nella prima riga che cosa viene fatto? vado a prendere h che quindi appunto è il nome della proprietà della prima riga verifico che data di 0 sia una proprietà effettiva dell'elemento quindi non sia una proprietà ereditata e dopodiché vado a fare html più uguale th quindi table header e h e alla fine faccio un html più slash table row quindi questa parte qua sostanzialmente mi genera la prima riga con le intestazioni della tabella dopodiché vado a fare un ciclo da 0 alla lunghezza dei miei dati vado a mettere un table row per ogni riga e poi per ogni elemento nei miei dati vado a prendere l'elemento con campo E di nome F nella riga iesima dei miei dati e alla fine metto un chiusa riga alla fine faccio res.innerHtml uguale html che è la stringa che ho costruito in questo modo e poi restituisco res quindi restituisco un oggetto html se io vado a fare un'operazione di questo tipo quello che ottengo è che facendo una chiamata usando xml htp request e poi facendo una conversione utilizzando la funzione che abbiamo appena visto io chiamo la funzione csv parse sui dati che sono andato a recuperare e dopodiché faccio document.determined.id csv load sample che quindi è questa slide al suo interno faccio un append child della tabella che è stata costruita e quindi ottengo sostanzialmente questi dati che sono il csv che abbiamo visto prima in maniera del tutto analoga lo posso fare con un contenuto json l'unica cosa è che i dati che vengono ottenuti invece di essere elaborati la funzione csv parse che è quella di cui abbiamo parlato andando a presentare i vari formati di dati vado ad utilizzare l'oggetto json in particolare il metodo parse che prende un contenuto json e crea un oggetto javascript quindi questo oggetto javascript viene poi passato alla funzione table.html che mi genera un elemento che poi viene aggiunto come ultimo figlio di questa slide e quindi abbiamo sostanzialmente questa tabella che è esattamente identica alla prima perché il contenuto del file got.json e il contenuto del file got.csv sono sostanzialmente analoghi ovviamente due formati diversi uno csv e l'altro json a questo punto è bene fare una osservazione importante su alcuni vincoli che sono stati messi sulla possibilità di utilizzare delle caricamenti di dati utilizzando dei oggetti di tipo xml htp request e queste limitazioni vanno sotto il nome collettivo di same origin policy ovvero una politica che si basa sulla stessa origine l'idea sostanzialmente è che tutti i browser vanno a limitare le risorse che una pagina html può caricare o meglio che il javascript che gira all'interno di una pagina html può caricare a risorse che hanno la stessa origine della pagina html ovvero hanno lo stesso protocollo hanno lo stesso host eventualmente anche la stessa porta in generale non è possibile andare a fare delle richieste di tipo cross origin ovvero andare a leggere dei dati che stanno su un altro server o utilizzando un altro protocollo l'unico caso in cui io posso fare delle richieste di tipo cross origin è quando io vado ad esempio ad aprire un link su un contesto diverso però in realtà io qui non sto facendo nessuna operazione oppure ho la possibilità di fare un'operazione di embedding quindi posso andare a caricare delle immagini che stanno su un altro server però queste immagini poi non possono interagire con la mia pagina oppure vado a leggere degli script le richieste di tipo cross origin non possono essere fatte per operazioni di tipo read ovvero quando uno script cerca di leggere delle proprietà che hanno un'origine diversa sostanzialmente la same origin policy è stata pensata per evitare delle vulnerabilità di sicurezza ad esempio quello che si chiama un cross site request forgery ovvero quando sostanzialmente io faccio credere al mio utente di essere collegato a un certo sito in realtà ho un sito diverso e tramite delle richieste con origin diversa vado effettivamente a operare sul sito che il mio utente crede di stare utilizzando andando però nel frattempo ad esempio catturare delle informazioni o facendo delle operazioni nascoste che il mio utente non è in grado di vedere l'esempio tipico è vi arriva un link in una pagina in un'email che vi dice di collegarvi alla vostra banca voi cliccate su quel link senza guardare viene aperta una pagina che è sostanzialmente identica a quella della della vostra banca dove c'è ovviamente la richiesta di inserire la password ecco a questo punto è necessaria una richiesta e quello che potrebbe essere fatto è che voi inserite i dati nel browser la pagina diciamo truffaldina cosa fa prende i vostri dati li manda al qualcuno che vuole rubarli e in più li manda alla vostra banca ecco la vostra banca a questo punto riceve questi dati vi dà l'accesso e quindi la pagina truffaldina può sostanzialmente darvi accesso al vostro conto corrente però nel frattempo può fare di nascosto tante altre operazioni l'idea è che il browser evita di fare queste operazioni cross proprio per impedire che un utente senza saperlo dia accesso a un sito tramite un altro sito che potenzialmente può rubare delle informazioni ovviamente in alcuni casi è possibile andare a avere la necessità di accedere a dei siti diversi quindi sostanzialmente se voi non siete una banca ma siete ad esempio un fornitore di informazioni meteo e volete che i vostri dati possano essere inclusi da pagine che vengono eseguite su altri siti ecco allora ovviamente è vostro interesse andare a rilassare la same origin policy quello che potete fare è ovviamente a parte utilizzare un document.domain che è un metodo che permette di cambiare il dominio ma sostanzialmente spesso vi permette di andare a cambiare semplicemente un sottosito quindi all'interno dello stesso dominio potete andare a utilizzare un approccio che si chiama cross origin resource sharing che sostanzialmente prevede di andare a mandare delle informazioni aggiuntive quindi degli header all'interno della richiesta della risposta HTTP dicendo che quel dato è liberamente condivisibile anche attraverso diverse origini oppure utilizzando una procedura che si chiama JSONP il cross origin resource sharing sostanzialmente consiste nell'andare a definire un header che viene mandato dal server che sostanzialmente si chiama access control allow origin e quindi sostanzialmente stiamo dicendo che noi come server consentiamo delle richieste che abbiano origine da e qui andiamo a dire quali domini possono fare richieste al nostro sito una possibilità è mettere ad esempio asterisco e quindi sostanzialmente noi stiamo dando accesso alle nostre risorse anche da pagine che si trovano su qualunque altro sito JSONP sostanzialmente è una tecnica un po' più complicata che prevede che sul lato client ci siano un element tipo script il cui la cui sorgente è il contenuto di tipo JSON con in aggiunta questo punto interrogativo ovvero callback uguale a process che cosa fa quindi il server il server va a vedere che in realtà quel contenuto JavaScript deve chiamare un metodo che si chiama process e quindi che cosa fa scriverà process aperta tonda al suo interno andrà a mettere una grossa stringa che contiene tutto il contenuto JSON e poi chiusa tonda quindi quando il client browser riceverà questo script sostanzialmente lo script conterà semplicemente una chiamata alla funzione process passando come parametro il contenuto JSON risultato la funzione process che ovviamente dovrà essere definita in un altro punto della pagina HTML verrà chiamata con al suo interno come parametro il contenuto JSON questo tipo di accesso ovviamente è consentito perché abbiamo detto che io posso includere tranquillamente degli script che stanno su un altro sito quindi che hanno una cross origin mentre invece non posso accedere a dati che sono cross origin ovviamente questo funziona se il mio server risponde a questo protocollo e quindi quando vede che c'è questo parametro callback va a incapsulare il contenuto JSON all'interno di questo chiamata questa chiamata che di solito viene chiamata padding quindi JSONP sta per JSON with padding il padding sono per l'appunto qui due pezzettini di nome della funzione aperta tonda da un lato e chiusa tonda dall'altro tutto questo tanto per darvi un'idea può essere fatto in maniera automatica andando a creare un elemento di tipo script al volo generando un nome di una funzione casuale quindi vado a generare un numero casuale andando ad aggiungere la funzione all'oggetto window e poi andando a fare una richiesta di tipo callback di quel tipo e andando ad aggiungere un child all'interno del mio body che è di tipo script e quindi con quel specifico contenuto e questo è come effettivamente riesco ad ottenere JSON-P andando a sfruttare questo meccanismo ovviamente dall'altro lato deve esserci uno script lato server che è in grado di incapsulare il contenuto JSON all'interno della chiamata ad esempio un frammento di codice JavaScript come questo che va a prendere il callback e sostanzialmente mette la chiamata callback seguita da un'aperta tonda seguita dai dati che vengono richiesti seguita da una chiusa tonda quest'ultima parte relativa alla cross origin serve non tanto perché impariate a fare richieste di questo tipo quanto piuttosto perché siate ben consci che se voi cercate di fare delle richieste di tipo cross origin quindi accedere a dei dati tramite XML HTTP request che non si trovano non hanno la stessa origine della pagina HTML in cui viene eseguita la richiesta vi ritrovate di fronte a un errore e quindi sostanzialmente non riuscite ad accedere ai dati quindi o avete controllo anche del server da cui volete andare a prendere i dati quindi potete andare a rilassare questa same origin in policy quindi facendo dando la possibilità di fare delle richieste cross origin oppure dovete trovare qualche altra soluzione ad esempio andando a copiare i dati da un server sul server in cui si trova la pagina HTML che ha bisogno di accedere a quei dati la cosa fondamentale di questa lezione però è da capire e ricordare come funzionano gli accessi Ajax utilizzando l'oggetto XML HTTP request e le due funzioni che abbiamo visto prima per un accesso sincrono ma soprattutto quello a sincrono che vi permettono di andare a fare una richiesta a caricare i dati e poi andare a manipolarli con una funzione di callback facendo tutte le operazioni che vogliamo ad esempio andando a generare una tabella andando a disegnare un grafico o facendo qualunque altra operazione voi vogliate fare con i dati che vi vengono inviati dal server dietro la vostra richiesta di tipo XML HTTP request